Il simbolo della famiglia nella casa comunale, accostamento tutt'altro che casuale, anzi fortemente voluto dall'amministrazione di Margherita. Il simbolo della famiglia è quello della Natività di Gesù, opera realizzata e restaurata dal professor Mario Granata. Il luogo dove sarà possibile ammirarla, e non solo durante il periodo delle feste di Natale, sarà l'atrio di Palazzo di Città. Qui si è svolta la cerimonia di benedizione ufficiata da Monsignor Peppino Pavone alla presenza del sindaco Paolo Marrano, sicuro di aver scelto il luogo simbolo della comunità margheritana per valorizzare un'opera che resterà patrimonio di Margherita di Savoia. È un segnale di vicinanza e di comunanza a tutta la comunità, a cui rivolgo i miei migliori auguri per le prossime festività, ma soprattutto, come ho già detto prima, questa immagine, la Sacra Famiglia rimarrà qui in comune, in via permanente. Quindi lo scopo che si vuole raggiungere è quello di lasciare la presenza di una spiritualità in una casa comunale, che è la casa di tutti i cittadini, ma anche per dare serenità alla gente che IVI opera quotidianamente. Realizzata con carta pesta e gesso su struttura di metallo, sulla natività di Gesù, il professor Granata ha dovuto lavorare quattro mesi per riavvicinarla all'antico splendore che potrà essere apprezzato dai marchheritani. Il fatto che rimanga nel comune, sia anche di esempio la città, che la famiglia è il primo nucleo della storia e purtroppo le guerre, i disinteressi, il disamore, dovuto anche ai tempi moderni, si è persa un po' la famiglia. Quindi col sindaco decidemmo che questa è la casa della città, quindi tutti i familiari appartengono a questo. Quindi diceva bene Sua Eccellenza che questo è di esempio alla famiglia. Spero che porti un po' di tranquillità.